Ok. Grazie. 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 Io sono l'ascienza di Presidente. Come? Io ho scritto le parole di P.S. in novembre. Io ho scritto un libro. Io ho scritto un libro. Non sono proprio, perché? Quindi ho scelto? C'è il libro che ci sono. C'è il libro che ci sono, ci sono un libro che ci sono, Vahalani Tonevela Vakku Pogluva Nisini is still writing dictation Praise and if you are finished writing Ok Thank you Thank you Okay let's mark Thank you 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 And Thank you Thank you And Thank you 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 And Thank you 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 It's Thank you 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 Yes Thank you 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 Okay Thank you 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 Yes Thank you 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 Yesterday Thank you 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 Set out to see Thank you 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 Yeah Thank you 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 Thank you